Oggi cari amici del verde, video bomba! Oggi mi venderete come un venditore di pentole di quelli che sbraitano in televisione, ma quando trovo un prodotto che funziona, che è biologico, fatto con prodotti naturali, io mi entusiasmo molto. Di cosa stiamo parlando? Prendiamo di questo prodotto qua, si chiama Stop, poi nel box informazioni avete tutti quanti i link per andare alla pagina e vedervelo, è un prodotto miracoloso, eccezionale, ragazzi sdraia gli insetti in 12, massimo 24 ore. È un qualcosa di portentoso, è solamente fatto con prodotti davvero biologici, c'è olio di soia grezzo, olio essenziale di arancio, olio essenziale di aglio, estratti naturali di aglio e così via, quindi pensare che un prodotto così naturale riesce ad eliminare una valanga di problemi sugli insetti neanche ci si crede. Quali insetti? Gli afidi. Quando ci sono tutti quegli afidi sui nostri limoni, pieni zeppi, 12 ore stecchiti sulle rose, ma neanche a pensarci, l'afide verde o quello nero del pesco, duri da morire io, anno scorso, non sono riuscito ad eliminarli neanche con il nimm e il sapone molle potassico. Ragazzi, 24 ore secchi tutti quanti, eliminati. Vogliamo parlare della mosca bianca che si infila dentro i nostri agrumi, lì bella nascosta, noi andiamo là con il trattamento e lei svolazza sdraiata in un attimo. La Leurocantus spiniferus, quel piccolo insetto che si mette sotto le foglie degli agrumi nero con quelle piccole cigliette bianche che se si intigna non si riesce a toglierlo con nulla, tratto con lo stop e 24 ore sdraiato. Questo prodotto poi, che è un olio, funziona bene anche sulla cocciniglia a scudetto. Ma di bello poi che cos'ha questo stop, che oltre ad eliminare l'insetto è anche un fortissimo repellente. Per esempio, pensiamo alla cicalina, magari che ne so, sul rosmarino, sulla salvia, che andiamo là, trattiamo lei saltella a destra e a sinistra, dopo un'ora è lì più insistente di prima e più forte di prima. Con questo prodotto innanzitutto, se noi la tocchiamo nella nebulizzazione durante il trattamento, è sdraiata, ma fa azione repellente sulla nostra pianta. L'azione repellente è molto molto importante per un prodotto, perché terrà lontani gli insetti, ci farà risparmiare i prodotti successivi e la pianta non sarà più punta. Occorre sempre fare azione di prevenzione, piuttosto che andare a fare la lotta, così come avviene per le patologie fungine. Ma che cos'ha poi ancora di miracoloso questo prodotto? Tempi di carenza zero! Che vuol dire che io tratto, dopo due ore, prendo il mio ortaggio, la mia zucchina, una lavata e posso andarmela a mangiare. Vi faccio un altro esempio. Ho le ciliegie pieni di pidocchi, tratto per eliminarli, perché se no non mangio più. Con questo, anche se abbiamo trattato, andiamo là, raccogliamo le nostre ciliegie, una sciacquatina sotto l'acqua ed abbiamo risolto. È spettacoloso! Gli intervalli di trattamento. Che significa? Faccio il trattamento, devo aspettare un tot di giorni di tempo per ritrattare di nuovo la pianta, perché magari vedo che ancora ci sono un po' di insetti che non ho eliminato completamente. Devono passare cinque giorni. Questo poi lo può dare anche la signora, che ne so, Maria, facciamo sempre così con questo nome molto comune, che ha magari due peperoni lì sul balcone, una pianta di pomodoro, una zucchina, piuttosto che i fiori. Questo è un corroborante, eccolo qua. Quindi è ammesso in agricoltura biologica, non occorre il patentino e possiamo acquistarlo tranquillamente tutti quanti. Vi posso assicurare che ci farà togliere di mezzo molti prodotti insetticidi dal nostro armadietto. Il prodotto lo trovate nella pagina difesa piante della Fitochem, vi sto mettendo nel box informazioni il link, vi metto anche il link della pagina Amazon per chi ama fare spesa su questa piattaforma ed anche il link di ebay. C'è una cosa però da dire, è un olio, quindi dobbiamo sempre stare molto attenti nel distribuirlo. Non si dà sulle piante in fioritura, perché è un olio e ci imbratta il polline. Non si dà con temperature che sono superiori a quei 28-30 gradi, si dà sempre in tarda serata, quando il sole non batte più sulle foglie della nostra pianta. Ho fatto varie prove sulla fitotossicità di questo prodotto, l'ho dato sulle svariate orticole e piante da frutto e fiori, ho provato le zucchine, i peperoni, le melanzane, i pomodori, i cetrioli, l'ho addirittura provato sul pesco, sul pero, rispettando le dosi e la distribuzione, non ho notato nessun sintomo di fitotossicità, però fate sempre voi le prove su ogni ortaggio. piccola porzione di pianta, trattate, aspettate 72 ore, se tutto è a posto che non vedete che le foglie si sono arricciate, sono diventate marroncini, sono appassite, allora potete trattare tranquillamente. Andiamo subito a vedere le dosi, le istruzioni, modalità di utilizzo, tutto quanto. Allora vi dico subito che nel box informazioni vi lascio il link di questo prodotto, in modo che qualsiasi cosa sfugge a me, la potete anche controllare da sole, e vi fate una bella ricerca. Si tratta praticamente di olio di soia grezzo, aromi, estratti vegetali, come abbiamo detto è un corroborante, ossia un potenziatore delle difese immunitarie della pianta. E' adatto per piante da fiore, da orto, da frutto, ortaggi, insalate. Le dosi sono queste qua, 10 ml di prodotto in un litro di acqua, si sbatte bene il prodotto prima di metterlo nell'acqua, trattamenti sempre nelle ore più fresche, in tarda serata, perché? Perché chiaramente c'è olio grezzo di soia. Ricordiamoci che tutti gli oli sono dei prodotti che occorre dare sempre in tarda serata, nelle ore più fresche della giornata, e comunque mai sopra temperature di 28-30 gradi. Il prodotto si presenta così, di questa colorazione, qui abbiamo un misurino graduato, facciamo finta che devo fare un litro di acqua, 10 ml, potete anche utilizzare una siringhetta, se non avete questi misurini qua, comodi però sono comodi perché questo è molto densa, appunto è molto concentrato. Eccoci qua, già è emulsionato, quindi non dovete aggiungere nient'altro, perché se voi fate così vedete che sale su in aria, perché è chiaramente olio di soia, però come voi girate, guardate qua come si solubilizza, e questa è davvero una soluzione molto concentrata, questo deve andare in un litro di acqua, quindi adesso mi prendo il mio restante litro di acqua, lo vado a mettere in uno spruzzino, o in una pompa a spalla, se devo fare un trattamento più grande, e faccio il mio trattamento. Una volta che abbiamo inserito il nostro prodotto nel nebulizzatore, siamo pronti a fare il trattamento ragazzi. Allora vi saluto così ragazzi, ci vediamo la prossima, speriamo con un altro video portentoso come questo. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!